Spesso nel corso dei nostri appuntamenti ci siamo occupati della Calabria e ciò non soltanto per un particolare personale legame con questa terra geografica, ma anche perché questa regione meridionale sforna quotidianamente quasi notizie, diciamo pure insolite, curiose, talora singolari. Ne abbiamo parlato a proposito di sport la scorsa settimana, tra mancate disponibilità di campi e sconfitta a tavolino per impraticabilità e indisponibilità di un perimetro di gioco secondo quelle che sono le norme standard, lo facciamo adesso richiamandoci e rapportandoci alla notizia di stamani all'alba dunque, la misura che è stata adottata nei confronti del sindaco di Riace, il simbolo dell'accoglienza nei confronti dei migranti. Ritenuto tra le 50 persone più influenti del mondo da una nota mondiale rivista, anche sulla scorta di sue azioni eclatanti, estremiste, estreme. Diciamo che può essere lusinghiero e meritorio aver intrapreso determinate iniziative, come l'apertura verso l'altro, diciamo filosoficamente, quasi antropologicamente, il diverso da noi. Però non è neanche ascoltabile una dichiarazione a tenore della quale viene ritenuta una legge dello Stato balorda, perché viviamo in tempi nei quali vi è una crisi anche di identità statuale. I principi cardini sui quali si fonda lo Stato italiano vengono continuamente smossi, attaccati, si attenta agli stessi. Ed è chiaro che se vi è una gerarchia anche normativa, una legge debba essere rispettata. Indipendentemente noi non prendiamo posizioni di alcun genere, di alcun tipo e di alcuna natura. Indipendentemente poi si diceva dello spirito caritatevole assunto da una determinata persona. Altro poi è l'opposto, quando si spaccia per azione meritevole un tentativo sottinteso, quasi simulato, di realizzare profitto, cosiddetto business. Però se vi sono delle precise elaborazioni gerarchiche, le stesse devono essere pienamente assolte ed osseguiate. Una legge non può essere disapplicata soltanto perché soggettivamente, individualmente e singolarmente viene ritenuta balorda. Questo non può essere udito fin quando una legge che è stata approvata con tutte le procedure, con tutti i crismi, risulta in vigore. Le prescrizioni in essa contenute non sono passibili neanche di censura, si diceva, individuale o e o soggettiva. Viviamo in tempi nei quali anche i rapporti con le istituzioni europee non sono lineari, non sono diplomatici. Però qui, a differenza di quello che accade nel nostro ordinamento e per quanto gli accordi valevoli con l'istituzione europea, con l'Unione Europea, rappresentano fonte sovraordinata, è purtuttavia certo che il governo, i rappresentanti politici, l'esecutivo del tempo debba pensare alle reali necessità degli italiani. Ed è altrettanto lampante come, che che ne possano sostenere gli economisti, non si intraveda ad oggi alcun barlume di ripresa, altrimenti determinate iniziative, determinati provvedimenti restrittivi non verrebbero adottati solo ed esclusivamente per sfoggio personale o per incentivare un'eventuale e successiva preferenza elettorale, ma anche perché vi è alla base una reale impellente, non procrastinabile necessità che qui si individualmente viene avvertita. Ritorniamo a parlare di sport dove le acque sono un po' più calme. Ieri accennavamo alle elezioni del Presidente federale, il 22 di ottobre, il candidato principale Gravina, attuale Presidente della Serie C e la base di appoggio sin qui è più che maggioritaria, 63% considerata la sua Lega, la Lega di D, la componente arbitrale e anche l'associazione italiana degli allenatori. Attenzione soprattutto alla Lega di D e non inganni la Serie D come quarta serie perché il peso specifico è notevole, è considerevole. Si andrà verso un candidato unico? Probabilmente no. Vi è tempo per l'assemblea di A, la Lega A, fino al 5 di ottobre per valutare, dialogare e poi evidentemente manifestare quelli che sono i loro convincimenti. Non soltanto la Lega A ancora deve esprimersi, vi è anche poi la definiamola ribelle ma in senso benevole anche per alcune iniziative, anche qui estreme assunte, l'associazione italiana dei calciatori che è sempre capeggiata, condotta da Tommasi. Il 22 forse finalmente l'Italia avrà un nuovo Presidente federale, serve. Noi si diceva e lo confermiamo non prendiamo posizione, tentiamo in questo approfondimento di narrare, raccontare eventi, fatti, situazioni mantenendo un punto di vista neutrale, rappresentando tutte le tesi. E però una considerazione va pur svolta, perché una federazione non può essere retta da un commissario. E questo mi sembra scontato, banale, elementare. Bisogna addivenire ad un legale rappresentato attraverso poi delle regolari elezioni. Quindi ben si arriva il 22 ottobre, ben chiunque sia la persona fisica si elegga un nuovo vertice federale. A livello di calcio giocato, oggi si ritorna a parlare di Champions League, alle 19 la Juventus o 18.55 ospita gli svizzeri dello Young Boys e la Roma invece in serale. Sono due partite dalla rilevanza massima per entrambe le nostre rappresentanti. Attenzione allo Young Boys, perché è vero, ha perso tra zero col Manchester United, però sta dilagando nel campionato svizzero. Per quanto il campionato svizzero possa presentare dei valori tecnici non omogenei rispetto a quelli del nostro torneo. Però lo Young Boys ha vinto 9 su 9, 32 gol segnati con 10 giocatori differenti. Ha più 12 sulle mediate inseguitrici. Ha vinto addirittura 7 a 1 con 7 marcatori diversi contro il Basilea. E' pur vero che il Basilea quest'anno è in affanno, però parliamo di una compaggina elvetica che sistematicamente abbiamo conosciuto nelle principali competizioni europee per club. Ma è anche naturale come la Juventus. Non possa che oggi ottenere i tre punti per mantenere il punteggio pieno nel proprio raggruppamento. Invece i primi tre punti questa sera dovranno arrivare dall'Olimpico tra Roma e Vittoria Pulsen. Anche qui profondo rispetto verso l'avversario che in vero è stato raggiunto nella prima giornata, però momentaneamente conduceva 2 a 0 sul CSKA di Mosca. Poi è finita in parità con un risultato di favore per la Roma sconfitta a Madrid. Ma attenzione a queste compaggini che possono creare più di un'insidia, soprattutto giocando in contropiede e soprattutto con una difesa romanista che quest'anno non è proprio lo specchio, l'emblema della solidità e dell'affidabilità. La Roma dovrà fornire continuità rispetto alla bella affermazione maturata nel derby. Ma più che la continuità dei risultati e di gioco, quello che serve questa sera è sbloccare la situazione del girone e porsi come anti-Real Madrid. Sempre ricordando che si qualificano per gli ottavi di finale le prime due classificate. Ultime due considerazioni di giornata. La prima si parla di questa Superlega del 2024, andrebbe a rimpiazzare la Champions League, meccanismo che prevedrebbe le migliori squadre dei 5 campionati europei. Non so se siamo pronti, dopo tanti anni, praticamente 80 anni di tracoppa dei campioni e Champions League, più o meno 80 quando saremo nel 2024, non so se siamo abituati ad una riforma che sarebbe veramente epocale. Si ritorna a parlare di Superlega perché si dibatte delle motivazioni che hanno spinto il Presidente Giuventino Agnelli a non riconfermare Marotta come amministratore delegato. Anche qui noi raccontiamo le diverse posizioni. Marotta più conservatore e conservativo, Agnelli più intraprendente e anche più impulsivo, pur però mantenendo ragione di bilancio. Vedremo se poi la nuova politica juventina andrà a risultare fruttifera e proficua. Non è la prima volta che la Juventus improvvisamente è stersa. Ad inizio anni 90, quando arrivò l'Ippi, fu vissuta una fase più o meno analoga a quella attuale. L'ultima battuta invece la riserviamo alla Lazio, che giocherà in Europa League giovedì, ma preme sottolineare i due rinnovi fino al 2023 di Milinkovic ed Immobile. Intanto Immobile, dopo tanto peregrinare, ha individuato nella Lazio la società con la quale può evidentemente esprimere tutto il proprio bacino tecnico, il proprio bagaglio realizzativo, lo sta facendo vedere anche nella gara persa da ultimo contro la concittadina, con una bellissima realizzazione di freddezza ma anche di precisione. E poi Milinkovic, nel cui rinnovo non è prevista alcuna clausola recessoria, per cui il valore del giocatore si fonderà sulle prestazioni. E siccome Cinquimilinkovic non sta dispiacendo tutt'altro, è chiaro che la valutazione futura potrebbe attestarsi sulle tre cifre. Praticamente un giocatore dal valore simile a Ronaldo. E già le inglesi stanno ponendo grossa attenzione su questo centrocampista serbo. Potranno le società italiane accaparrarselo? La valutazione e la sua quotazione è elevata. E probabilmente, ritornando a bomba, ad oggi soltanto la Juventus ha simili potenzialità di spesa. A domani!